AB Horizon è una realtà innovativa che aiuta le persone a migliorare la qualità della propria vita creando oggetti unici nell'ambito del benessere. Horizon One è un oggetto altamente distintivo poiché unisce i concetti di meccanica, tecnologia e arte e aiuta le persone a allenare tutti i muscoli del corpo in meno di un metro quadrato. Grazie all'avanzato sistema di intelligenza artificiale riuscirai ad allenarti in completa sicurezza vivendo un'esperienza di allenamento unica. Scegliere Horizon One significa scegliere di vivere un'emozione attraverso un oggetto che unisce concetti di eleganza e stile.